Amici di YouTube bentrovati, i pronostici che da questa settimana riguarderanno anche alcuni campionati di eccellenza, quindi anche lo veduto del gatto, vedremo se è particolarmente nervoso oppure no anche questa sera, se il gatto chiede di iscrivervi al canale di YouTube mi raccomando, altrimenti il gatto sta inutubosendo già appuntato un attimo nei punti, però diciamo pronostici di eccellenza che riguarderanno anche qualche campionato, eccellenza monisiana visto che mi hanno dato quasi la cittadinanza del Monise, allora ci sono 4 anticipi, pronostici per la settima di andata, sono Alife Vastogirardi X, Campobasso Puglionesi 2, Macchia Treppini X, Sesto Campano Spinete 1, questi gli anticipi, poi domenica Città di Termoli, Isernia 2, Olimpia Riccia Chiternina 1, Pietra Montecorpino, Campo di Pietra 1, infine stai nervosendo quindi dovrebbe uscire una sorpresa, attenzione, Polisportiva Gambatesa Venafro X, la sorpresa è il pareggio del Venafro Capolista, infatti il gatto l'ha preso anche abbastanza male, vedete che mi sta anche perdendo, il gatto è impazzito, mi raccomando iscrivetevi e ci vediamo su YouTube, un saluto da Valerio e tal te asto.